Cristiano Ronaldo Piquet Cristiano Ronaldo E trova il compagno Mimapier Un 1-2 veramente da K.O. Proprio nell'angolo, il portiere non potrà farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E con questo sembra una doppietta. Davvero una grande partita. E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di... L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. Ti senti in colpa per aver deluso i compagni. E con l'aiuto degli avversari sono riusciti ad andare in golla. Incredibile! E c'è la seconda autorete! E un golf così Fabio è proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione. Per questo ha sbagliato. E un golf così! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.